Oltre 4.000 persone hanno manifestato contro l'estrema destra Erfurt, capitale dello stato tedesco della Turingia, dove la prossima settimana si terranno le elezioni locali. La Turingia è tradizionalmente una roccaforte del partito di destra FD, che secondo i sondaggi potrebbe diventare il secondo più forte nel Parlamento di Erfurt. Il direttore del memoriale di Buchenwald, che si trova nello stato della Germania orientale, ha sollevato preoccupazioni sul potenziale successo dell'estrema destra. Anche in Sassonia e nel Brandenburgo si terranno le elezioni locali. Essendo stati ricchi che rappresentano il 10% della popolazione tedesca, i loro risultati elettorali, insieme a quelli della Turingia, potrebbero avere conseguenze significative per il governo federale. Un uomo si è consegnato alla polizia tedesca dopo aver rivendicato la responsabilità dell'attacco con un coltello a Solingen, che ha ucciso tre persone. Le autorità hanno fatto sapere che l'uomo è un richiedente asilo di 26 anni, proveniente dalla Siria, che doveva essere espulso in Bulgaria l'anno scorso. L'ufficio del procuratore federale tedesco ha dichiarato che sta ora indagando sull'uomo per sospetto omicidio e per la sua potenziale appartenenza all'organizzazione terroristica ISIS. Il gruppo militante ha rivendicato la responsabilità dell'attacco sabato, ma non ha fornito alcuna prova. Il sospetto è stato trasferito nella città tedesca di Karsch, dove un giudice federale deciderà se emettere un mandato di arresto. Il presidente tedesco Steinmeier ha chiesto maggiori poteri per le autorità di sicurezza in seguito all'attacco e diversi critici del governo chiedono una politica migratoria più dura che comprenda un aumento delle deportazioni e controlli permanenti alle frontiere. Il cadavere di un giornalista britannico della Reuters è stato trovato tra le macerie dell'albergo colpito sabato da un bombardamento russo a Kramatorsk, nell'est dell'Ucraina. I russi hanno ucciso un giornalista straniero di 40 anni e ferito 6 persone, ha riferito la polizia ucraina domenica sera. Tra i feriti ci sono anche un giornalista tedesco e uno lettone che lavoravano per la Reuters e due residenti della zona. La stessa agenzia di stampa aveva confermato in precedenza la presenza all'hotel Sapphire, sventrato da un missile Iskander di una troupe di 6 persone, inclusi un reporter statunitense e un ucraino subito ricoverati in ospedale. I russi hanno colpito tra sabato e domenica anche altra località della regione di Donetsk, uccidendo almeno 7 persone, facendo decine di feriti con droni kamikaze e missili da crociera, balistici e teleguidati. Mosca da parte sua ha diffuso il bilancio di 5 deceduti nell'area di Belgorod a causa di un attacco ucraino a Rakitnoie, probabilmente condotto con droni che le autorità russe dicono di avere in parte abbattuti. La Spagna trasferirà alle isole Canarie 50 milioni di euro per sostenerne lo sforzo nell'accoglienza di migliaia di migranti, molti dei quali minorenni non accompagnati. Ad annunciarlo è stato il ministro per le politiche territoriali, Angel Víctor Torres. La decisione arriva dopo una visita del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez nell'arcipelago, nel corso della quale ha incontrato il presidente della regione proprio per parlare della crisi. Barche cariche di migranti continuano ad arrivare alle Canarie, situate in pieno Oceano Atlantico. Le isole rappresentano un importante punto di ingresso per chi cerca di raggiungere il territorio dell'Unione Europea a partire dai paesi dell'Africa occidentale. Molte delle persone che arrivano nell'arcipelago sono adolescenti, se non addirittura bambini, non diranno rimasti orfani prima di partire o durante il viaggio stesso. Il governo delle Canarie afferma di essere in grado di accogliere al massimo 2.000 minorenni, ma attualmente il totale sulle isole supera le 5.500 unità, con un conseguente sovraffollamento delle strutture. Alcuni manifestanti non organizzati si sono riuniti davanti all'ambasciata francese a Mosca per chiedere il rilascio del fondatore di Telegram Pavel Durov, arrestato sabato in Francia. Un manifestante che con un cartello invitava i francesi a non seguire le orme di Putin è stato fermato dalla polizia. In Russia la legge non ammette manifestazioni organizzate non autorizzate che possono essere punibili con una multa o 15 giorni d'arresto, ma gli attivisti hanno cercato di aggirare il divieto, organizzando picchetti di una sola persona. Il patron di Telegram di origine russa è stato arrestato durante uno scalo col suo jet privato, in un aeroporto poco fuori Parigi. L'arresto fa seguito a un'indagine sulla mancanza di moderazione su Telegram, che secondo la polizia permetterebbe la proliferazione di attività criminali come lo spaccio di droga e diffusione di materiale pedopornografico. Telegram è diventata una delle principali piattaforme social proprio per la privacy che offre, il che non soddisferebbe ancora i requisiti dell'Unione Europea. Negli ultimi anni le ondate di caldo e di siccità hanno causato gravi problemi a numerosi produttori di olio d'oliva. La Spagna, che rappresenta il più grande paese al mondo in termini di forniture, prevede per l'anno in corso un calo del 50% della resa. Si tratta di una situazione particolarmente complessa, poiché da un lato implica, per la legge della domanda e dell'offerta, un aumento dei prezzi. Dall'altro genera di fatto una nicchia di mercato lucrativa per i prodotti contraffatti. Gli agricoltori spagnoli inoltre accusano i supermercati di approfittare della situazione, aumentando i loro profitti a spese dei consumatori. Il prego in origine dei nostri produttori ha appoggiato un 3%, ma sin embargo il consumatore sta pagando un 59% a mezzo in grande linea. La grande distribuzione nega però di aver gonfiato i prezzi. L'olio d'oliva verge si è mantenuto per base di 10 euro durante tutto il 2024. Al contrario, le organizzazioni che difendono i diritti dei consumatori denunciano prezzi rimasti alti negli scaffali in Spagna, nonostante la completa eliminazione dell'IVA sui prodotti a base di olive, operata dal governo a partire dallo scorso primo di luglio. Il ministro degli interni della Francia, Gérald Darmanin, ha condannato l'aumento degli episodi di antisemitismo dopo il caso dell'incendio doloso avvenuto davanti a una sinagoga. Un agente di polizia è stato ferito nell'attacco e il sospetto, secondo la stampa un algerino di 33 anni, è stato a sua volta ferito nel corso di una sparatoria con le forze dell'ordine. ...de séjour qu'on appelle provisoire. Mettre le feu de façon volontaire à une synagogue où le rabbin, sa famille, habite en attendant avec une hache, c'est un acte antisémite, il faut le dénoncer comme tel. Sinon on crée une suspicion et une confusion des genres et je pense que les français attendent, et notamment auprès de juifs, qu'on mette des mots sur les choses. Il y a aujourd'hui une augmentation des actes antisémites. La haine des juifs, la haine d'Israël touche des enfants, des femmes et des hommes français qui ont le droit de vivre la religion qu'ils souhaitent. Nella capitale Parigi alcune persone si sono riunite in piazza domenica per esprimere solidarietà dopo l'attacco e manifestare contro il razzismo, l'antisemitismo e tutte le forme di discriminazione. La torcia paralimpica è arrivata in Francia dopo aver attraversato il canale della Manica dal villaggio britannico di Stoke, Mandeville. I tedofoli francesi e britannici si sono incontrati nel mezzo del tunnel che attraversa il canale. Tra questi Laura Mills, pronipote di Sir Ludwig Gutmann, fondatore del Movimento Paralimpico. I 24 staffettisti francesi hanno poi ripreso il viaggio con la fiamma in Francia uscendo dal tunnel di Calais. Di lì la fiamma è stata divisa in 12 torce per attraversare la Francia e toccare le 12 città ospitanti, le paralimpie di tutto il paese, ad accompagnare ed accogliere i tedofoli varie attività per la conoscenza e la promozione degli sport paralimpici. A Parigi è stata accesa una speciale fiaccole, la tredicesima torcia, in occasione dell'ottantesimo anniversario della liberazione di Parigi. Le paralimpiedi si tengono nella capitale francese dal 28 agosto all'8 settembre. Le previsioni meteo per nartedì 27 agosto di Globus Television. Martedì, bassa pressione sulla regione. Giornata caratterizzata da una mattinata con cielo a tratti molto nuvoloso. Nel pomeriggio precipitazioni sparse, anche temporalesche sulle zone più interne. Temperature massime fino a 35 gradi, valori notturni stazionari. Mari, Marioni o poco mosso, Martirreno calmo. Stretto di Sicilia mosso.